Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi non sono informistima, purtroppo è un virus intestinale, però volevo comunque farvi il video sull'analisi ciclica che nella giornata di ieri non abbiamo fatto e quindi poi restava spenta. Stavo senza video sull'analisi ciclica per questa settimana, anche perché teoricamente domani, se sono ritornato in forza, dovrei partire per una confession importantissima su Bybit di cui vi aggiornerò poi tra le altre cose sui miei canali Telegram e anche Instagram dove andremo a pubblicare magari dei contenuti, stories eccetera e quindi non sarò in grado di fare magari aggiornamenti nella giornata di domani che tra le altre cose è una giornata importantissima per via dell'elezione del Presidente degli Stati Uniti. Quindi qualsiasi cosa la pubblicherò su Telegram perché domani sarò in viaggio tutto il giorno quindi non sarà possibile fare un video YouTube quindi uscirà il solito short diciamo ma non un aggiornamento live. Quindi qualsiasi informazione possibile e importante oltre ovviamente ai miei canali premium come l'Academy eccetera sarà poi pubblicata magari anche su Telegram fermo restando diciamo le ore in volo. Allora per quanto riguarda l'analisi ciclica intanto dobbiamo andare ad analizzare il concetto che questa struttura di questi giorni deriva interamente subisce diciamo un effetto importante da quello che sono gli esiti delle elezioni americane esiti che sembrerebbe arrivare insomma ai primi exit poll intorno alle 23 dalla giornata di oggi se siete in Italia 23 italiane e poi per quanto riguarda invece i veri veri risultati ci vorrà tanto perché probabilmente il conteggio dei voti per posta eccetera non darà possibilità a di avere insomma risultati immediati tra le altre cose lo stato della Pennsylvania che è quello un pochettino più diciamo più instabile è quello che probabilmente decreterà la vittoria o meno e sembra ancora in palesse parità insomma ecco nei vari sondaggi eccetera. È in linea di massima quindi comunque l'elezione diciamo gli Stati Uniti avremmo qualche notizia già nella nottata di oggi. Per quanto riguarda invece la struttura dell'analisi ciclica andiamo a vedere quello che è la struttura del ciclo mensile. Allora intanto ribadisco la questione del possibile inizio di un ciclo annuale di Bitcoin tra il 6 settembre oppure se considerate il minimo della Shadow il 5 di agosto. Vanno bene entrambi a dire la verità non c'è particolare una particolarità che ci fa preferire uno all'altro quindi dipende ovviamente dalla Shadow però è anche vero che la Shadow in questione per esempio di Bitcoin è avvenuta insomma intanto in un mese sottile che è quello di agosto e poi avviene perché Bitcoin comunque anche non ha un prezzo molto diciamo stabile sui diversi exchange perché in alcuni ha dei prezzi differenti. Potremmo anche decidere di cambiare grafico e utilizzare in questi casi per esempio anche l'iShare Bitcoin Trust quindi l'ETF che comunque è ancora sottile come vedete ci sono i gap dovuti all'apertura per le questioni dai fine settimana e su questo tipo di grafico quindi anche su questo grafico si evince che il problema resta perché abbiamo un minimo nel 5 di agosto e poi abbiamo un minimo in chiusura invece il 6 di settembre quindi un problema di natura ciclica rimane e non è possibile andarlo a eliminare guardando per esempio alternative o altri grafici quindi non abbiamo modo di fare questa cosa. In realtà comunque cambia poco perché siamo all'inizio del ciclo annuale quindi questi mensili che si susseguono non hanno poi così impatto insomma sulla parte finale. C'è un unico dubbio cioè il fatto che se in effetti il insomma possa essere iniziato qui l'annuale ad agosto siamo in una fase molto lunga per un eventuale ciclo trimestrale di Bitcoin che però ancora una volta non è detto che Bitcoin debba fare questo ciclo trimestrale ecco questo qui però sicuramente se ci sarà nei prossimi giorni un ribasso molto pronunciato di Bitcoin oltre questo che è già avvenuto e magari assisteremo a una cosa del genere la presa cioè la considerazione che una roba del genere potrebbe essere inerente ad agchiusura di un ciclo trimestrale che è un ciclo ovviamente di tre mesi ci sta tutta. Attenzione che però il ciclo trimestrale in questione secondo me già andare oltre il 14 di novembre sarà eccessivo quindi una decina di giorni massimo perché già siamo a 101 giorni anche vero che ne abbiamo avuto alcuni da 110 quindi ancora più in là però in linea di massima di solito durano di meno vale anche il concetto che purtroppo ancora una volta il conteggio ciclico non ci dà una mano in questo caso perché anche se facciamo partire l'annuale da settembre 70 giorni 69 70 giorni sono sufficienti comunque per un trimestrale quindi a prescindere non cambia neanche questo concetto. In linea di massima però secondo me bisognerà guardare questo dato soprattutto da un punto di vista di analisi ciclica per comprendere se questo pump con il doppio massimo di Bitcoin e il relativo ritracciamento ha dichiarato diciamo il massimo di questo ciclo mensile cosa che è possibile in quanto questo è un ciclo mensile di natura ternaria quindi fatto sostanzialmente a tre montagnelle facciamo così il concetto nel momento in cui siamo andati a toccare questo massimo eravamo a metà del mensile quindi è un classico mensile a forma ternaria. Ora non ci sono vincoli ribassisti perché il movimento da 12 giorni perché abbiamo un movimento da 13 giorni e poi uno da 12 giorni che sembrerebbe essere stato chiuso ieri e oggi dovrebbe essere iniziato il nuovo movimento della durata di appunto 10 11 giorni che porterebbe poi alla chiusura in pratica del mensile che io ho posizionato più o meno qui a 35 giorni e che ho posizionato in questo caso intorno al 14 novembre. Ora c'è una anomalia su questa cosa che voglio di cui voglio parlarvi tra poco perché dobbiamo tenere in considerazione che siamo nella settimana delle elezioni degli Stati Uniti quindi ovviamente sì cicli ok però dobbiamo tenere anche in considerazione l'andamento del fatto che questi cicli si possono spasare con un'altra forma di andamento di cui vi parlo tra poco proprio in merito anche a quello che potrebbe succedere perché non siamo in una settimana normale tra virgolette benissimo in una settimana che ha un impatto molto rilevante quindi ovviamente se ci sarà una vittoria evidente per esempio di un candidato piuttosto che un altro ma se non ci sarà probabilmente magari il mercato continuerà seguendo diciamo la sua strada in linea di massima questo ciclo è il terzo movimento quindi questo è il primo questo è il secondo e questo è il terzo movimento che dovrebbe essere iniziato questa notte dal minimo di 66 7 e 98 questo movimento non ha vincoli perché questo ciclo anche centrale non è stato ribassista e ciò significa che noi qui possiamo fare tutto in pratica perché non ci sono vincoli quindi questo ciclo che inizia può fare anche nuovi massimi e chiudere così non è vincolato non ha nessun tipo di logica di vincolo vario eccetera io a dire la verità mi sarei aspettato in questi giorni un impennato ulteriore di bitcoin per poi andare a fare questa fase finale il famoso pullback ve ne avevo parlato in qualche video del bitcoin monday nella settimana precedente in realtà il mercato poi ha deciso per fare un doppio massimo scusatemi il termine ma una figura assurda in un contesto del genere perché non è neanche definibile facile è più che facile è una figura talmente banale talmente semplice che è una follia che il mercato abbia fatto questa figura segno che bitcoin anche in questo momento forse è talmente semplice da utilizzare in termini anche di analisi tecnica che diventa difficile cioè diventa difficile perché è talmente semplice talmente banale che nessuno lo segue perché dice vabbè non è possibile perché sono costrutti che non funzionano a livello di analisi tecnica da decine di anni su altri mercati o quant'altro e che magari sulle cripto in generale difficilmente hanno funzionato anche in passato invece negli ultimi periodi sembra quasi come un computer vi faccio vedere per esempio il breakout del canale discendente di questo ciclo con un pullback così pulito e preciso che neanche nei libri di analisi tecnica del 97 lo trovate così insomma puntuale tra l'altro uno è anche il secondo qui in shadow cioè proprio veramente una cosa da manuale di analisi tecnica il doppio massimo in questa zona con il massimo precedente da manuale di analisi tecnica ok ci sta un leggera fase di bassista ma di solito quando avvengono questo tipo di figurazioni il mercato non dà facilmente segnali di ingresso a chi è rimasto fuori bensì spacca diciamo i massimi se ne va e lascia per strada tutti quelli che non sono entrati questo è simbolo anche di tante cose che sono cambiate quest'anno proprio a causa dell'avvento degli etf perché è innegabile che molte cose sono cambiate e anche in questa zona è abbastanza evidente questo atteggiamento completamente diverso di bitcoin rispetto agli anni passati perché questo tipo di atteggiamenti così puliti non li aveva mai avuti ragazzi vi assicuro con delle strategie di analisi tecnica che sono famosissime sono anche molto vecchie appunto sono famose perché non funzionano più sui mercati proprio perché sono così banali cioè qui si faceva bingo e sembrava un bancomat non ho mai visto una cosa del genere negli ultimi decenni della mia vita carriera da trader veramente incredibile questo è simbolo anche del fatto che probabilmente abbiamo un mercato molto più istituzionalizzato rispetto a quello che si pensi è molto meno in mano a retail e questo insomma fa sì che gli istituzionali muovano il mercato un po' seguendo le logiche quasi un po' di stare nelle regolette ecco diciamo così in linea di massima comunque questo ribasso è stato 1 2 3 4 5 6 strutture ribassiste veramente molto pronunciato ovviamente doveva chiudere questo movimento ternario e quindi il centrale di questo movimento ternario e quindi da qui dovrebbe essere iniziato l'ultimo movimento ora l'ultimo movimento secondo me dipenderà strettamente da quelle che sono le elezioni americane perché se noi qui non abbiamo vincoli di sorta né di natura ciclica perché possiamo fare nuovi massimi come possiamo fare nuovi minimi non c'è nessun vincolo perché questo tipo di movimento è il finale del movimento mensile quindi non è l'iniziale che difficilmente va a fare un minimo ma è il finale quindi che questo movimento possa fare dei minimi è assolutamente molto probabile possa fare una cosa del genere però allo stesso tempo i movimenti precedenti non hanno vincoli ribassisti e ciò ci lascia la possibilità che questo ultimo movimento possa addirittura dico per assurdo fare nuovi massimi per una cosa del genere ovviamente ci vogliono le spinte dovute alle elezioni degli Stati Uniti perché è vero tutto è possibile su questo ciclo però è anche l'ultimo di questo mensile quindi qualora faccia una cosa del genere è un po' fuori dagli schemi statistici è anche vero però che c'è una variabile è un'anomalia di cui volevo parlare appunto la introduciamo ora cioè il fatto che qui noi abbiamo fatto 25 giorni totali 25 giorni sono comunque adeguati per far chiudere un mensile già qui quindi un mensile chiuso in pratica qui e lanciare un trimestrale a forma ternaria proprio da questo livello e qui si sposterebbe il concetto della possibilità di un trimestrale che però parte a quel punto da agosto quindi questo è un conteggio molto più complesso rispetto a quello che stiamo facendo noi e non voglio tediarvi con una cosa che magari poi non sta né in piedi né in cielo né in terra non sta in piedi perché il mercato non gli danno minimamente ascolto va a fare un minimo qui e fine dei giochi quindi qualora si dovesse andare a verificare una struttura fortemente rialzista di bitcoin da qui valuteremo anche poi nelle prossime settimane questa possibilità però esiste anche questa possibilità al momento le probabilità dell'analisi ciclica di questi prossimi giorni sono molto chiare il rimbalzo che deve avvenire in questa fase non dovrebbe avere grandi grandi capacità di fare movimenti importanti e poi concludere in questo modo questo è lo scenario più probabile di tutti ovviamente una cosa del genere non si sposa tanto bene con la questione delle elezioni perché? Perché a meno che appunto questo esito elettorale non verrà rimandato a causa dei problemi legati al conteggio dei voti, alle varie denunce legali che ci saranno sicuramente visto che siamo sul filo del rasoio quindi verranno ricontate le schede, ci sono i voti anche per posta che devono essere ricontati quindi si allunga il brodo perché qui comunque arriviamo a 14 di novembre, niente di anomalo probabilmente già nelle prossime 2-3 giorni il mercato prenderà una direzionalità in base a un sell on news oppure a un pump che magari preferisce un candidato piuttosto che un altro soprattutto al lato crypto questo noi non lo sappiamo al momento perché in realtà non c'è nessun dato poi tra le altre cose gli Stati Uniti sono molto bravi a nascondere queste informazioni perché parliamoci chiaro, per loro valgono oro in quanto i mercati si muovono con queste informazioni loro lo sanno benissimo chi magari di dovere può fare qualche operazione, sfido insomma chi sa magari qualcosina che ha in mano già i dati degli exit poll qualcuno li sa già ragazzi e quindi magari insomma che non saranno giusti però se c'è una forte discrepanza eccetera qualche operazione in Cina magari sul mercato l'hanno già messa in atto e quindi a loro conviene che ci sia questo atteggiamento di non si sa bene niente in modo tale che si possa muovere molto di più i figli di questa matassa finanziaria in linea di massima comunque vi ripeto l'atteggiamento di questo ultimo ciclo del mensile dovrebbe essere laterale barra debole questo è la natura anche per via del fatto che questo massimo è distanziato tantissimo dalla fase di minimo troppo anche qui un'anomalia molto evidente guardate vi faccio il conteggio a livello di pricing abbiamo un meno 9,24% per la chiusura di una specie di ciclo settimanale è tanto ragazzi proprio tanto qui per esempio anche questo che è stato molto profondo abbiamo avuto un 6% e anche in altre strutture cicliche per esempio laddove chiudeva solo un ciclo più piccolo come questo qui per esempio abbiamo di solito un 5% già qui è cambiato perché in questo contesto abbiamo avuto un 9 in pratica sembra che se noi analizziamo questi due mensili sembrano identici adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa anche qui per il discorso della macchinetta e di questi atteggiamenti veramente da analisi tecnica che sono talmente talmente banali che è incredibilmente facile andarli a utilizzare allora qui teoricamente abbiamo una struttura sviluppata in questo modo io la farei ricadere un po' così a forma di natura ternaria ancora qui con un 10,16,8 quindi simile a questo questo è addirittura ancora più preciso 13,12,10 però cambia poco cioè alla fine siamo sempre intorno ai 34 giorni 35 giorni il concetto è sempre di cicli ternari c'è stato un ribassone sul ciclo centrale dopo un massimo e quindi il finale ha fatto il classico pump and dump per chiudere poi la struttura ciclica quindi la sua naturale propensione sarà proprio ripetere sostanzialmente questo ciclo cioè un pump così per poi fare un dump e chiuderlo probabilmente laterale o leggermente rialzista questa è la soluzione più improbabile a meno che appunto vi ripeto non ci siano degli shock dovuti alle questioni delle questioni dell'elezione americana e lì cambierebbe un po' tutto perché secondo me insomma il mercato tenterà la strada della volatilità quindi io direi questa è la soluzione più probabile le altre sono entrambe possibili perché per esempio la fase di crash è assolutamente normale in quanto siamo alla chiusura di un ciclo mensile ma poi tra le altre cose potrebbe essere anche un trimestrale perché sia che facciamo iniziare l'annuale da qui sia che lo facciamo iniziare da qui potrebbe comunque chiudere un trimestrale quindi anche la fase ribassista da qua una roba del genere sta alla perfezione con questa dinamica ciclica solo la fase di up ha meno probabilità e magari sarà proprio quella che si andrà a verificare perché poi interviene quell'altro tipo di scenario di cui poi casomai andremo a parlare va bene fatemi sapere cosa ne pensate anche voi i pollicioni in su ragazzi perché sto registrando veramente malandato ve lo assicuro quindi datemi una mano almeno fatemi sentire alla vicinanza con i pollicioni grazie a tutti ciao 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 ciao